Musica Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale Qui con Velox Oggi sono qui per portarvi finalmente Un nuovo episodio della serie Nuclear Facil con Prof. Velox Un nome molto imbarazzante però la serie Sinceramente vi è piaciuta, mi piace anche a me farla Ed è una serie in cui gioco in live su tutti contro tutti Ragionando a voce alta E cercando di farvi capire appunto come ragiono Su questa modalità L'obiettivo è semplicemente questo Perché poi io riesco a fare il nuclear o altro È relativo, non mi interessa dare spettacolo Diciamo fare il nuclear Ma ragionare insieme a voi Quindi ora io cercherò due partite Parlerò a voce alta insieme a voi Ragioneremo e tutto E niente, fatemi sapere semplicemente se questo video vi è piaciuto Se raggiungiamo i 10.000 mi piace Vi giuro che ne porto un altro la prossima settimana Quindi sta a voi raga Buona visione, intanto suonatevolo, bella Ok raga ci siamo Sono intanto di questa parità appena iniziata E ora c'è come fare questa strica Allora questa zona è la migliore per fare secondo me il nuclear C'è questo fienile Che è ben riparato I nemici arrivano tutti in questa zona Quindi se voi muovete bene Usando le vostre belle cuffiette Allora cerchiamo di non farci uccidere subito Cazzo Allora il nemico spona lì dietro Potrebbe star sponando già lì quello che appena uccide Infatti è entrato dentro Penso che sia qua sopra È sceso giù Vabbè comunque Sponono qui dietro e qui sotto Ogni volta che vi ammazzate qualcuno Controllatevi sempre qua dietro Perché potrebbe Questo stava bloccando lo spawn Ne ho uno dietro Potrebbe spawnare O che qua sta per entrare uno Mi raccomando raga Le cuffie Se ce le avete sfruttatele Perché qua dovrebbe spawnare in teoria No Una cosa fondamentale è capire che Gli spawn certe volte si bloccano Se voi siete in zone Siete molto vicini Siete anche semplicemente in linea d'aria Questo per evitare le spawn kill Adesso sto zitto raga perché C'è uno che mi sta venendo a prendere Vediamo se è spawnato qualcuno No Contra attacco Quel tipo adesso è incazzato con me Che vedete sta arrivando qui Probabilmente è lui No non è lui Ah questo è fermo Ne è spawnato uno dietro raga Ok bisogna evitare le zone In cui i nemici Vengono tutti insieme a prendervi Quello che sta succedendo ora C'è un nemico Ci sono dei nemici troppo vicini Ho un po' di paura se vuoi essere sincero Attiviamo la corazza perché qua Potrebbero spararci insieme In contemporanea Qua potrebbe spawnare uno No perché c'è il nemico qui Ok a questo punto io direi fare una cosa Temporeggiamo Mancano due kill al Visat La cosa più saggia che si può fare È camperare un po' Non è anche tanto Il tempo di Fare un po' il quadro della situation Perché i nemici Adesso quando non abbiamo Visato cose di questo tipo Potrebbero essere ovunque Secondo i miei calcoli c'è uno Che sta spawnando qui Esatto Perfetto Era un po' troppo morta la zona Potrebbe arrivare uno da questa zona adesso Anche se qui solitamente Non passa mai nessuno Perché è lontana da tutti gli spawn Ed è una zona troppo grande Sta un po' sul cazzo le persone Che ne è spawnato uno qui E ne abbiamo anche uno qui Mettiamoci sta kill Che ora raga Col Visat come vi ho già spiegato Si fanno le kill Cioè ora si gioca proprio per uccidere E basta Ora Sembra assurdo Però è la parte in cui si muore più spesso In streak Perché Io muoio più spesso Perché corro veramente tanto Perché voglio Assolutamente Muovermi Per fare i punti Per prendere Gli altri Visat Guardate questi Questo ha il WMP Una cosa fondamentale raga è Quando vedete che c'è un nemico Che vi sta venendo a prendere Insomma che è vicino Cerchate di capire Che arma usa E fate di tutto Per non Cioè giocare a suo vantaggio Se hai tipo il WMP E voi avete un M8 Fate in modo che non Vi spari da vicino Perché poi vi squaglia Ok comunque siamo 21-0 Mi devo grattare il naso Porco Giuda Questo ha la corazza Cristo La porca di quella puttana Vai affanculo Questa è veramente Una situazione del cazzo raga Vedete perché È una situazione del cazzo Perché hanno capito Che sono in serie E sono qui E loro in questo momento Vogliono che io muoia Non gliene frega un cazzo Di Oh merda Non gli interessa altro Se non uccidere me Però io Sono più furbo di loro E non mi metterò mai Nella condizione di farmi uccidere O forse sì Questo non mi ha visto Cioè non mi sta proprio calcolando Quindi Lo killiamo facilmente Siamo a 26 Potrebbe spawnare qui Qualche arma C'è un bel WMP godo Ok Mamma mia figlio di puttana Te lo dico proprio col cuore Perché questa era veramente Un'infamata Se mi ammazzava Cazzo 27-0 Devo morire Per Lo zio che si usa L'ondata di calore In faccia Spudorata Oddio Non va giù Siamo a 29 A questo punto Abbiamo l'UV Una corazza Uno è qua Attiviamo la corazza E lo andiamo a castigare Mamma mia Mi stava uccendo Ok Primo nuclear raga Con tre tacche Tra l'altro E niente Adesso ci facciamo Un'altra bella partitozza Raga A tra poco Ok ragazzi siamo Allora La prima parte è andata Veramente benissimo Direi proprio di sì Cioè abbiamo fatto Un bel nuclear Anche se io spero Sinceramente che Voi non vi stiate Concentrando sul nuclear In sé Perché dicono Ma è una minchia Spero che state un po' Acquisendo qualcosa Che se non è che vi stia Insegnando Madonna Quanto lagga Sto gioco ultimamente È uno schifo ragazzi Cioè Poi Sto cercando di farvi capire un po' No No Che merda Questa Bastardo Quest'altro mi vuole ammazzare Ma la conne Minchia 134 Di Basta Non ne posso Non ne posso Più muori Vabbè Ok ora possiamo parlare Tranquillamente Allora Questa zona ragazzi È assolutamente la migliore Di tutte I nemici spawnano Qua a destra E la a sinistra In fondo però a sinistra Solitamente Qua a destra invece Spawno proprio in questo angolino Qua sulla destra Quindi la cosa più saggia Da fare È fare destra e a sinistra E cercare di fare Le kill Perché i nemici Proprio arrivano qui Ora zitti Perché ne ho uno in zona Cioè zitti Sto parlando proprio io Ok vedete Quello è spawnato lì raga Una cosa Non guardate mai gli spawn Perché se li guardate Non spawnano Tipo fate così Poi vi affacciate Fate avanti e indietro Continuamente Non state fissi a mirare lì Perché altrimenti non spawneranno mai Facendo questo giro Sto rischiando Perché i nemici Mi potrebbero spawnare Anche qui E infatti è quello Che è appena successo E spawnare lì Mi mette un po' a rischio Perché do le spalle A quest'altra zona Dove vedete È appena passato anche Un bel nemico Qua continuano a spawnare Nessuno Però loro ora Sono veramente Incazzati con me Perché Sento dei passi C'è uno qua dentro Che è appena uscito È morto Abbiamo la corazzina Corazza raga Mi raccomando Si sfrutta solo quando C'è un gunfight Gunfight vuol dire Faccia a faccia E non vuol dire Che io sparo uno di spalle Quello non è un gunfight Raga Passiamo questo Qua dove potrebbe spawnarmi Dietro ora Infatti è quello Che è appena capitato Qua potrebbe spawnarmene Uno Troppo presto È appena morto un nemico Ma è troppo presto Io continuate Sento dei rumori Non sta sparando nessuno Oggi qui Sto Ok Dovevo semplicemente A beccare il timing giusto Una kill abbiamo il visa Traga C'è nessuno Continuiamo a temporeggiare Che una kill Ho il visa Poi mi lancio Lo sapete Ecco guardate come muoio Muori bastardo Si va divisa Traga Questo è quello Che ho appena ucciso Che Sa dove sono E vorrà uccidermi Però sciacalliamo Prendere sciacallo Non è mai una cosa sbagliata C'è un nemico Qui in zona Siamo morti Secondo me Sapete Ho questo presentimento Non so perché Questo non mi calcola Minimamente Oh cazzo Mamma mia Cosa abbiamo rischiato Ragazzi Stiamo rischiando un voto Devo sciacallare Voglio di nuovo la mia arma Aspetta un po' Che qua c'è uno E stare in quella zona È veramente uno schifo Perché i nemici Contraattacco Voglio sciacallare Qua non c'è nulla No La potrebbe sponare un'ora Va bene Madonna che arma di merda Morti Che siamo feriti E i nemici vogliono ammazzarci Siamo 19-0 Sapete com'è Siamo il loro obiettivo principale Adesso Allora Io Ora Devo fare 5 kill per il Visat E penso che In una kill e mezzo Una kill più o meno Dai Vorrei avere la corazza Che è una sicurezza mentale Enorme Entro qua dentro Gioco con questa Semplicemente perché ho il silenziatore Temporiggiamo raga Questa zona è completamente bloccata Non so perché Non sto sparando più nessuno Uavvio stile Uavvio stile Sto zitto perché Tentiamo di stare in questa zona Ma raga ma è sta succedendo di tutto Non spawnano i nemici Cioè non so perché Fateci caso Non stanno spawnando i nemici Nella mia zona Muori Ok Manca una kill al Visat Cioè in realtà manca meno di una kill 25 punti Però va fatta Usiamo questa per farla Devo spaccarlo il primo che vedo Ok sto zitto perché qua potrebbe Let's go Ora spawnano per forza Merda raga Mi sa sul culo che stanno killando un botto Questi qua eh Cioè guarda 21 Questa è una di quelle parite dove No raga non ci credo Ditemi che cazzo Di morte No sense È questa Il ping che fa cagare Sale e scende Cos'è un Un delle lego Vabbè comunque raga Vabbè killiamo normalmente L'avremmo fatto tranquillamente Se quel tipo non avesse avuto Boh Un culo di fare questa Che non ha un cazzo di senso Comunque Quest'episodio ormai Finisce con questa partita Ragazzi Io spero che vi sia piaciuto La seconda parita è stata un po' più incasinata Perché non era molto gestibile Perché Gli spawn erano Bloccati Stanno spawnando tutti adesso Era mai capitato Una cosa del genere La prima vabbè è andata bene Abbiamo fatto il nuclearozzo Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando se volete un altro episodio Ragazzi 10.000 mi piace E noi ci becchiamo Semplicemente Domani Penso Non so a che ora uscirà questo video Comunque domani Alla 3 settembre Con un nuovo video Bella raga Ciao 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 Ciao